Buonasera ragazzi stasera anche la pizza faremo una pizza questa qua è un impasto che ho fatto io e adesso andiamo a farla nella teglia in effetti facciamo una pizza in teglia con una pizza bianca quindi mais prosciutto cotto e giustamente fior di latte quindi procediamo a fare il panetto e a metterla nella teglia ecco ragazzi sto facendo la pizza rotonda per metterla nel panetto quindi dopo la sistemeremo direttamente nella teglia lì che potete vedere che già ho messo l'olio dentro quindi arrivo qui la pizza va presa dal centro verso l'esterno va rigirata sempre e sempre lo stesso movimento a dare ad allargare così ecco qua ragazzi la pizza sta in teglia io ho messo l'olio perché la metterò per prima diciamo così nel forno e poi aggiungerò la mozzatella e poi dopo il prosciutto cotto e il mais perché sono più delicati quindi adesso in forno prima la pizza così fa così con l'olio sopra che ho messo e poi aggiungerò man mano la mozzarella poi il prosciutto cotto e poi il mais che è più delicato quindi procediamo ecco ragazzi che sta cuocendo nel forno è quasi fatto un altro pochino ed ecco ragazzi la pizza è terminata come potete vedere una bianca al cotto con mais fatta in casa naturalmente nel fornetto quindi come potete vedere è buonissima bella croccante ragazzi ed ecco qui e come sempre ragazzi vi dico se permetterete a giro magna ciao a tutti ciao a tutti